Sì, grazie. Ecco qui Gaston Brugman e i nostri microfoni per commentare questa sconfitta pesante allo stadio Adriatico con il Parma. Ci si attendeva dopo il cambio di panchina una scossa positiva per la squadra. Gaston, questa scossa non c'è stata ed anzi, rispetto a Cittadella, le cose sono andate anche peggio. Sì, tutti aspettavamo la scossa. Sicuramente è stata una giornata per noi. È difficile di commentare perché realmente non aspettavamo questo risultato. Siete stati colpiti subito al primo affondo del Parma, al decimo minuto, però certo nel primo tempo non siete riusciti, al di là di una tua conclusione, anche di Falco su punizione, a creare gioco. Perché secondo te? Sì, peraltro abbiamo preso gol, il primo gol, su una giocata che avevamo anche visto nei video. Quindi sicuramente siamo partiti già subito con la testa in un'altra cosa. Quindi è dura adesso commentare anche cosa non è andata davanti alle terricamere. Penso che dobbiamo riguardare dentro e migliorare. Perché già martedì abbiamo un'altra partita sicuramente. dobbiamo uscire con altra mentalità, altro spirito, perché se no così non andiamo avanti. Casto, in settimana si era tanto parlato di questo Pescara che avrebbe giocato oggi con un nuovo modulo. Così è stato. Tu sei tornato nel tuo ruolo antico, naturale, quello di centrocampista, di metodista, di regista della squadra. A distanza di tanti mesi, come ti sei trovato in campo? Bene, sicuramente devo ancora migliorare tanto. Noi venivamo facendo questo ruolo, però al di là di quello dobbiamo crescere tanto sull'aspetto mentale. perché sicuramente dentro quelli che hanno guardato la partita si vedeva che sembrava una squadra di uomini contro una squadra di ragazzini. E questo non può succedere più giocando in casa. Quindi non ci stiamo così. Ecco, torno sull'aspetto mentale perché mi sembra molto importante. È stato sottolineato anche dall'allenatore, il quale ha detto io sono il primo responsabile di questa disfatta. Però poi sul campo ci siete voi. Secondo te perché non siete riusciti a giocare magari come volevate? Eravate impauriti, timorosi, bloccati. Cosa è successo, Gaston? È una domanda che adesso, anche noi, appena finita la partita ci siamo confrontati con il mister e ci ha chiesto lo stesso. Comunque parlare adesso dopo una partita cosa ne è andato è sicuramente sbagliato perché non secco la mente lucida. Quindi è meglio aspettare domani che rivedremo il video, rivedremo le cose che abbiamo sbagliato e con la testa più libera magari capisci meglio. Io volevo tornare alla settimana scorsa all'esonero di Zeman. Quanto si era incrinato il rapporto tra la squadra e il tecnico boemo? Vi aspettavate questo esonero oppure no? È stato un fulmine al ciel sereno? No, no. Comunque la squadra sentiva anche che il rapporto fra la società e il mister non era positivo. Si vedeva perché ogni volta che parlava al press, una volta che parlava al Zeman si dicevano delle cose. Quindi magari anche quello, magari a noi ci ha fatto un po' ci ha fatto male. Però adesso è passato, c'era questa partita che volevamo fare bene. Dobbiamo solo chiedere scusa alla gente che è venuta perché... I tifosi erano un po' arrabbiati alla fine giustamente, delusi più che altro. È normale, è normale perché sono delusi loro ma anche delusi noi, è tosta fare una figura così davanti alla gente. Nonostante ci hanno urlato, cantato con noi per stare meglio, non siamo riusciti a fare il contrario. Quindi siamo dei specials e dobbiamo chiedere solo scusa.